In descrizione trovate i timestamps per saltare alla parte del video che potrebbe interessarvi Trovate anche tutti i link utili per applicare la patch Anche il gioco e relativi aggiornamenti, quelli del canale Telegram Cominciamo con il Nintendo Switch, per poi passare agli emulatori Se vogliamo applicare la patch per il nostro Nintendo Switch ci servirà a sapere se il modello che abbiamo è possibile moddarlo E bisogna moddarlo perché altrimenti non si può applicare la patch Andiamo sul sito IsMySwitchPatched e inseriamo il seriale che troviamo sulla console In questo punto qui della console Quindi dobbiamo accertarci che la modifica sia eseguibile Ad esempio il Nintendo Switch con questo codice alfonumerico è possibile moddarlo Mentre per il secondo neanche appare il seriale Il che vuol dire che non è possibile moddarlo se non tramite un chip che va saldato sulla scheda madre È un'operazione che sconsiglio di fare se non si avvezzi a modifiche hardware di questo tipo Una volta constatato se la nostra console è papabile per la modifica è possibile procedere con tale Vi lascio in descrizione sia un canale italiano sia un canale straniero Per seguire la modifica con firmware 17.0 per il Nintendo Switch Procedete con quello che più vi piace Fatto ciò potremo installare il gioco e i relativi aggiornamenti Piccolo consiglio Se avete il gioco originale su scheda o scaricato da Nintendo eShop Vi consiglio di installare anche tutti gli aggiornamenti e DLC vari Che sono gratis prima di eseguire la modifica al vostro Nintendo Switch Questo perché a mamma Nintendo non piacciono le console modificate E potrebbe quindi bloccare la vostra dall'operare servizi online Ma solo quelli Non bloccherà mai in toto la macchina Ma una volta eseguita la modifica della console ci chiederemo Ma il gioco dov'è? Link in descrizione Premetto che per installare il gioco vi serve l'ultima versione di TeamFoil della 17.0 Che potete trovare anche sul sito di TeamFoil per l'appunto Scaricate la versione .ro E inseritelo nella cartella Switch della vostra microSD Si installerà automaticamente una volta che avrete avviato la console con la modifica Scaricato gli OK Watch è il momento di inserirlo nella microSD del vostro Nintendo Switch Ovviamente bisogna spegnere la console tramite il pulsante Power Collegatela però prima ad una presa USB del vostro PC per facilitarvi il combito successivo Fatto ciò andiamo sulla scheda Creiamo una cartella dedicata chiamata ROM Trasciniamoci dentro il gioco E una volta terminato il processo possiamo rimuoverla tramite rimozione sicura di hardware Scegliendo espelli Rimettete la microSD dentro Switch E a questo punto bisogna inserire Payload tramite Tegra RCM Se avete eseguito la modifica avrete sicuramente fatto questo passaggio Inseriamo il Payload e via Andiamo su Teamfoil Andiamo su Esplora e da lì scegliamo il percorso della microSD Quindi la cartella con la ROM e tutti i DLC e aggiornamenti Il mio consiglio è di installarli manualmente tutti uno per uno Perché Teamfoil ti dice Ehi installali tutti insieme premendo meno Ma in realtà non lo fa Non sempre Una volta installato tutto quello che bisogna installare Avviamo il gioco per assicurarci che la versione sia la 4.0 Altrimenti non parte la patch E non parte neanche il gioco a volte E anche per dar modo di creare un percorso per il gioco stesso A questo punto Indovinate un po' Dobbiamo reinserire la scheda microSD nel computer Perché prima non c'era la cartella del gioco Quindi che si fa? Si collega il Nintendo Switch a una presa USB del PC Si spegne col pulsante Power e si leva la microSD Ora nella microSD Ora nella microSD Atmosphere e cartella Contents In questa barra di ricerca digitiamo questo codice alfanumerico Per trovare più facilmente ciò che ci interessa Apriamo la cartella e trasciniamo il contenuto che trovate in Italian Patch Come mostrato in video Una volta sincerati di aver eseguito tutti i passaggi Possiamo provare a vedere se tutto è andato per il verso giusto La schermata dovrebbe essere questa E l'ibrida di Nintendo è sistemata Passiamo agli emulatori Yuzu è il primo Se non sapete dove trovarlo Aprite un browser qualsiasi e digitate Yuzu Emu Download E il primo risultato dovrebbe essere questo Scaricate Installate E siamo pronti a cominciare Yuzu si aggiorna automaticamente ad ogni avvio Quindi avrete sempre l'ultima versione disponibile L'interfaccia è simile a quella di Sitra Se siete avvezzi a Sitra siete a cavallo Per trovare il gioco Doppio clic su Aggiungi nuova cartella dei giochi Cercate la cartella dove conservate le ROM E scegliete Yo-Kai Watch Jam Una volta aggiunto Andate su File Installa su NAND E scegliete la cartella contenente sia l'aggiornamento sia i vari DLC Installateli E avrete la versione 4.0 installata Se tutto è andato correttamente dovreste avere questa schermata che conferma Per installare la patch invece Tasto destro sul titolo Apri cartella mod E trascinateci dentro la cartella Italian Patch Così come la estraete dal RAR Avviate il gioco Ed eccoci qua Mi raccomando L'aggiornamento 4.0 Altrimenti non parte il gioco Per le impostazioni di Yuzu Io uso queste Ovviamente queste sono quelle che funzionano per me Magari voi avete una macchina più performante Potete anche provare con prestazioni migliori Ed eccoci arrivati a Ryujinx Ryujinx è un piano più complicato Ma non c'è problema Anche per lui Barra di ricerca su un browser Ryujinx emu download Primo risultati E pronti Una volta scaricato e installato Provate ad avviarlo Se non dovesse andare Andiamo su Ryujinx Tasto destro E segui come amministratore E dovrebbe partire A volte potrebbe metterci un po' ad aggirare Tra virgolette aggirare Ad essere accettato e più corretto Dal firewall di Windows Quindi aspettate qualche secondo Il problema di Ryujinx però È che ha bisogno delle keys per funzionare E non solo In descrizione trovate il download delle keys Scaricate ed estraete il contenuto Torniamo su Ryujinx E scegliamo File Open Ryujinx folder System E spostiamoci i file Che abbiamo appena estratto Da keys Non è finita qui Sempre in descrizione Trovate il download per il firmware Che servirà a far partire giochi più recenti Scaricatelo Poi Andiamo su Ryujinx Scegliamo Tools Install firmware Install firmware from XCI Or Zip E cercate il pacchetto appena ottenuto Vi chiederà di installare un nuovo firmware E vi avviserà con un messaggio visivo Una volta terminato Anche System Version risulterà aggiornato A questo punto Manca solo il gioco Che vi ricordo Trovate in descrizione Per installare il gioco Andiamo su Options E poi Settings Potete inserire manualmente Il percorso che vi interessa Oppure più facilmente Cliccare su Add E cercare la cartella Dove ci sono i vostri giochi Una volta fatto Cliccate Apply E Save Per inserire DLC E aggiornamenti Cliccate con tasto destro sul titolo Manage Title Update Scegliete la cartella con l'aggiornamento E installatelo Per i DLC invece Scegliete Manage DLC E scegliete tutti i DLC Da installare Se tutto è corretto Avrete questa schermata Trovate anche un link in descrizione Che vi porta ad una guida passo passo È inglese Ma c'è uno screenshot Per ogni passaggio da effettuare Quindi anche se non masticate l'inglese È comprensibilissima A questo punto manca solo la patch italiana Ancora tasto destro sul gioco Open Mods Directory E trascinate nella finestra che si è aperta La cartella Italian Patch Avviate il gioco Ed ecco fatto Vi lascio anche qui le mie impostazioni per Ryujinx Come per Yuzu Queste sono quelle che funzionano per me Spero che tutto sia andato per il verso giusto A chi ha deciso di applicare la patch Seguendo questa guida Questa è la guida più esaustiva che abbia mai fatto Ogni singolo passaggio a voce e a schermo E non lo chiedo mai Ma se lasciate un mi piace e un commentino magari L'algoritmo mi aiuta E ci tengo davvero stavolta Perché questa patch È stato un lavoraccio registrarla Dato che ci sono molti passaggi da eseguire E tutti sono a schermo Ad ogni modo Vi auguro un buon gaming E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.